Sostenibile, economica e solo quando serve. L'auto elettrica in Salento si mette a disposizione dei cittadini e dei turisti per poter raggiungere le più belle aree di questa magnifica regione dove il sole ti bacia tutto l'anno. Si chiama Foros Mobile. Foros Mobile è l'ulteriore conferma del Salento come territorio all'avanguardia nella sostenibilità e nella salvaguardia ambientale che ha scelto la cultura e il turismo sostenibile come sue principali leve di sviluppo. Foros Mobile è il primo car sharing che serve una vasta area urbana ed extraurbana e ciò è stato possibile grazie alla particolare conformazione del territorio che con i suoi 97 comuni e le altre tante frazioni che compongono un fitto reticolato di centri abitati si presenta come una metropoli diffusa di circa 3.000 km quadrati con 800.000 abitanti. Un servizio di course sharing extraurbano esiste solo in Francia tra Parigi e Versailles e nella comunità urbana di Saint-Quentin che raggruppa però solo 10 comuni. Inoltre Foros Mobile si inserisce in un contesto caratterizzato da un forte pendolarismo tra le aree interne durante tutto l'anno in cui il trasporto pubblico si presenta totalmente frammentato con scarsi collegamenti e scarse sinergie tra i vari mezzi. Foros Mobile ha scelto per la sua flotta iniziale 10 ronozoe berlina 100% elettrica che vanta un'autonomia di 300 km in condizioni di guida reali. L'obiettivo è di ampliare la flotta fino a 50 unità entro il 2018 con un incremento successivo di 100 veicoli all'anno per arrivare a 300 autovetture a regime. Per prenotare una Zoe basta visualizzare l'auto più vicina e prenotarla con l'app per smartphone Android, iOS e Windows Phone o tramite il sito internet forosmobile.com È possibile prenotare un'auto libera lungo la strada e iniziare subito il noleggio. Le auto possono circolare tra i comuni di tutta l'area del Basso Salento da Brindisi a Santa Maria di Leuca. Le Zoe hanno libero accesso e transito all'interno delle zone ZTL e possono essere lasciate al termine dell'utilizzo oppure parcheggiate in modalità sosta se non si desidera terminare immediatamente il proprio viaggio. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oino Zoe, il veicolo elettrico ideale per il car sharing. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.